Siamo qua con Prostocimo Mattia, terzo posto e insieme al suo connazionale Mazzi Matteo nella categoria 73 kg, congratulazioni per la posizione, volevamo chiederti adesso come ti senti dopo il podio? Beh sicuramente una grande emozione, per me è stata la mia prima European Cup e fare un terzo posto è una forte emozione, tornerai anche a questo meeting prossimo anno oppure troppo presto? Sì certamente, al training camp invece ti fermerai? No purtroppo no, non mi fermo, vabbè niente allora, congratulazioni ancora grazie Grazie